Benvenuti a Quotidiano Medicina, tutti i giorni le news e i focus di approfondimento. Vediamo gli argomenti di oggi, un test genomico per decidere quale chemioterapia dopo l'intervento al tumore del seno. Sindrome metabolica, prevenirla sin da ragazzi con una buona prima colazione. Attenzione alla caffeina a certe dosi è come una droga. Dunque la chemio non è sempre necessaria, non è necessaria sempre, non è sempre uguale per tutti dopo un tumore al seno. Nella maggior parte dei casi la decisione per gli oncologi con l'ausilio degli anatomopatologi è semplice, ma nel 15% dei casi i fattori di rischio e i dati raccolti non sono sufficienti a stabilire se e quale terapia intraprendere. Dubbi che possono essere fugati grazie all'OncoType DX, un test genomico su piccoli campioni di tessuto prelevati durante l'intervento o la biopsia che analizza l'interazione e la funzionalità di 21 geni, permettendo di ipotizzare con una scala da 0 a 100 se il tumore è destinato a ripresentarsi a 10 anni dalla diagnosi e se la chemio è necessaria, evitando così terapie inutili e pesanti per le pazienti e costose per il Servizio Sanitario Nazionale. L'abitudine di fare una colazione troppo povera durante l'adolescenza aumenterebbe il rischio più del 68% di sviluppare sindrome metabolica in età adulta, secondo un nuovo studio dell'Università di Umea in Svezia pubblicato su Public Health Nutrition. La ricerca rivela che i teenageri, i ragazzi che mangiano male a colazione hanno una maggiore incidenza di sindrome metabolica 27 anni più tardi rispetto a chi fa colazioni più sostanziose e nutrienti. Per sindrome metabolica si intendono numerosi fattori collegati ad un incremento del pericolo di soffrire di disturbi cardiovascolari, inclusi obesità addominale, elevati livelli di trigliceriti nocivi, bassi livelli di HDL, alta pressione sanguigna ed elevati livelli di glucosio nel sangue a digiuno. E secondo un recente studio la caffeina non sarebbe diversa da altre forme di droga. La dipendenza che ne deriva e i sintomi da astinenza che si provano impedirebbero alle persone di smettere di assumerla anche se volessero. Definirla droga legalizzata forse appare un po' esagerato quando la si associa ad una semplice tazzina di caffè, ma non lo è affatto, secondo quando dichiarato da alcuni professori dell'American University di Washington, tra cui la campana Laura Iuliano. Chi è solito bere caffè e introdurre dosi abbastanza elevate di caffeina, dette dai ricercatori, mostra una notevole dipendenza. Ma non è tutto, ridurne il consumo causerebbe in questi casi vere e proprie manifestazioni da astinenza, a tal punto che neppure quando vi sono condizioni particolari, magari di salute, che indurrebbero ad evitare il consumo, si riesce a smettere. Si pensi solo a chi soffre di serie problematiche cardiache, oppure a chi ha problemi di coagulazione, oppure ad una semplice gravidanza. Tutte buone motivazioni per dire addio ad una dose di caffeina, di cui però difficilmente si riesce a liberarsi. A tutti questi problemi viene persino dato un nome preciso, caffeine use disorder. È tuttavia bene anche tener presente che la caffeina non si trova soltanto nel caffè, ma spesso la si assume anche attraverso altri alimenti o bevande come quelle energetiche, quelle a base di cola, il tè, il cioccolato, il guaranà. Si mette in guardia anche dal consumo di tale sostanza in base all'età e dalla condizione attuale. Per esempio, si ricorda che gli adulti, ovviamente sani, dovrebbero limitare il consumo di caffeina a non più di 400 milligrammi al giorno. In soldoni si traduce a circa 2-3 tazzine di caffè. Però se si assume anche il tè, indicativamente un minimo di 60 milligrammi per tazza, o l'energy drink, indicativamente 80 milligrammi a lattina, ovviamente le tazzine di caffè dovrebbero assolutamente essere ridotte. Le donne in gravidanza dovrebbero ridurre di almeno la metà la dose massima raccomandata, quindi dovrebbero fare attenzione a non superare i 200 milligrammi al giorno. Chi invece dovrebbe astenersi quasi del tutto sono le persone che soffrono di ipertensione, disturbi cardiocircolatori, insonnia, crisi d'ansia, attacchi di panico e persino l'incontinenza urinaria. Bene, per le notizie è tutto anche per oggi. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Lino a Mario Argentino alla regia.